Appunto tutta la filosofia greca, potremmo dire tutto lo spirito greco si basa sul presupposto della giusta misura, anche le tragedie, voi potete leggerle come scatturenti dalla hybris, dalla tracotanza per cui si varca il giusto limite e trascendendo il giusto limite si precipita nella vicenda tragica, no? Edipo, qual è la tragedia di Edipo? Edipo uccide il padre, che è il simbolo della giusta misura, il padre pone dei limiti al tuo desiderare di per sé illimitato e ucciso il padre gode incestuosamente con la madre, il simbolo del godimento illimitato, acefalo, senza misura. Ma tutte le tragedie greche si reggono su questo dispositivo narrativo. Quindi i greci, per direvi che i greci condannavano l'illimitatezza, oggi invece viviamo in un tempo di illimitatezza imperante, il capitalismo ha un unico principio oggi, tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Poi pensate anche solo allo stratagemma delle reclame pubblicitarie, tutto senza limite, tutto senza limite. L'illimitatezza pienamente scatenata della crescita, del profitto, della produzione, dello scampo. Questa è la metafisica del capitalismo, se dovessi esporla in maniera molto schematica, ma credo cogliendo l'essenza della questione. Il capitalismo è metafisica della illimitatezza, rispetto alla quale occorre oggi più che mai riappropriarsi di Atene, riappropriarsi simbolicamente di Atene, cioè della giusta misura. Per questo oggi è molto più rivoluzionario rispetto ai centri sociali o rispetto ai partiti politici di una destra e di una sinistra interscambiabili, riappropriarsi della cultura classica, cioè rileggersi Aristotele, Platone e i cosiddetti presocratici, che sono maestri di resistenza rispetto all'odierno regno animale dello spirito capitalista.